A tutti voi bentrovati a Family Salute, secondo appuntamento con l'esperto nell'ambito dell'iniziativa Anziani in Movimento, percorso riservato alla popolazione Over 65, organizzato dall'associazione Che Spettacolo, grazie al sostegno della fondazione Friuli. Oggi ne parliamo con il responsabile scientifico del progetto, il professor Claudio Bardini, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza. Grazie per essere qui con noi. Due parole sul professor Bardini, docente di Scienze Motorie e Sportive al Liceo Classico Stellini di Udine dal 2000, docente a contratto all'Università degli Studi di Udine, di fatto da quando è nato il corso di laurea in Scienze Motorie, già referente regionale per l'educazione alla salute dell'ufficio scolastico regionale, attualmente è presidente del Comitato Nazionale allenatore del Friuli Venezia Giulia per la Federazione Italiana Pallacanestro, già allenatore di pallacanestro ai massimi livelli, è da sempre impegnato nel sociale e nello sport educativo. Ieri abbiamo avuto in studio Massimo Piubello, che ha parlato di lei come cardine delle iniziative scientifiche che porta avanti l'associazione Che Spettacolo. Un coinvolgimento il suo in prima persona, mettendo ovviamente a disposizione tutta l'esperienza maturata e poi appunto queste lezioni rivolte agli over 65 che Telefriuli ha già avuto modo di ospitare e proseguiamo lungo questo cammino. Intanto vi ringraziamo ovviamente per la disponibilità nella convinzione che davvero questo sia un servizio utile per chi ci sta seguendo. Andiamo subito nel pratico, parliamo di quelle che sono le raccomandazioni da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per quanto riguarda l'attività fisica per la popolazione adulta e anziana. Sì, intanto mi corre l'obbligo a ringraziare Massimo Piubello perché lui la mente, io sono soltanto il braccio e per cui in qualche modo tutte le progettualità che abbiamo portato avanti sono progettualità educative, di carattere sociale legate chiaramente al mondo sportivo. Diceva bene, l'Organizzazione Mondiale della Sanità fissa quelli che sono dei parametri settimanali a seconda delle varie fasce d'età di quantità di attività che in qualche modo portano a un benessere psicofisico, per cui sia del corpo che della mente. E nella fasce d'età che va oltre i 64 anni si parla appunto di 150 minuti settimanali moderati di attività aerobica. In più si prevede in questa fasce d'età, che ci tengo a sottolineare, in regione una persona su quattro ha oltre 65 anni, per cui voglio dire questo tipo di percorso è particolarmente attuale per il nostro contesto, pensando anche che negli ultimi dieci anni le persone ultraottantenne in Italia si sono raddoppiate. Questo per dire che cosa? Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come dicevo, prescrive 150 minuti di attività moderata di tipo aerobico, cioè in presenza di buona respirazione, di ossigeno e più delle porzioni di attività legata all'incremento della forza e all'incremento dell'equilibrio, per cui poi andremo a toccare magari il discorso dell'osteoporosi. E questo è quello che viene prescritto. Ahimè, noi dobbiamo combattere oggi, anche dopo tutto questo periodo che abbiamo vissuto, la pandemia della sedentarietà, perché è questo quello che sta succedendo. E per cui in pratica si tratta di far sì che tutte le persone, perché ad esempio per i nostri giovani sono prescritti 60 minuti al giorno, addirittura vigorosi, per tutte le persone oggi come oggi l'attività fisica è sinonimo di salute. Ecco, e tra l'altro ci sono fior fior di evidenze scientifiche che sottolineano e in qualche maniera certificano l'efficacia dell'attività fisica. Certamente, dal punto di vista, parlavamo prima, mentale, per cui diminuisce tutte quelle che sono delle situazioni di ansia, di stress, naturalmente abbassa quelle che sono le problematiche legate ad esempio al diabete, alla ipertensione e a tutte le altre situazioni legate a colesterolo e quant'altro ai valori che in qualche modo non sono ottimali. Soltanto facendo delle porzioni di 10 minuti, ok, sono tali da sommarsi ai 150 minuti che stavamo dicendo prima, per cui anche 10 minuti nell'arco della giornata e poi altri 10 minuti, vi dicendo, portano a quello che è il risultato finale. E le evidenze scientifiche sottolineano come si possano contrastare e prevenire determinate patologie di vario tipo, da cardiovascolari, respiratori e quant'altro, perché poi dobbiamo tenere presente anche che dobbiamo andare a braccetto fra attività fisica ed alimentazione. E allora lì è bene ricordare il buon Ipocrate, padre della medicina, che un po' di anni fa sosteneva che se riuscissimo a dare ad ogni persona la giusta quantità di nutrimento e di esercizio fisico, né in eccesso né in effetto, avremmo trovato la strada della salute. Questa pandemia ha costretto tanti di noi a rimanere chiusi in casa e abbiamo scoperto che all'interno delle mura domestiche comunque ci sono alcune attività che possono essere fatte. Questo vale anche per l'attività fisica ed è il motivo per cui siamo qui e per il quale portiamo il progetto Anziani in Movimento in televisione, così che arrivi potenzialmente a una platea il più ampia possibile. Certamente sì, voglio dire, benvenga che vengano sviluppate delle attività svolte in palestra o in presenza dell'esperto, del laureato in questo caso di Scienze Motorie, però il tipo di percorso che andremo a fare è quello di dare delle opportunità a tutte le persone adulte ed anziane di svolgere proprio in casa una serie di esercizi per vincere uno di quelli fattori che si chiama pigrizia, perché troppe volte rimandiamo al domani e invece dobbiamo vivere intensamente le nostre giornate regalandoli, regalandoci quella che è una situazione di igiene per il nostro corpo, come la mattina solitamente ci laviamo il viso e badiamo a tutto a rimetterci un attimino in sesto, ecco che le nostre proposte partiranno proprio da alcuni esercizi a risveglio, per cui già a letto io posso in qualche modo andare a beneficiare di alcuni esercizi che vanno a migliorare ad esempio la postura. Dopodiché ecco che già in piedi posso andare a considerare degli altri esercizi che migliorano tutto quella che è la flessibilità, la mobilità articolare, la respirazione e quant'altro. Insomma, 10 minuti al giorno non sono una cosa grandissima, eppure i benefici sono importanti, quindi insomma invitiamo tutti a seguirci e a mettere in pratica poi quello che predichiamo in qualche maniera. Certamente sì, voglio dire, è chiaro che stiamo parlando di persone adulte o anziane in salute, ma poi vedremo anche per gli esperti che vi parteciperanno, come anche situazioni di persone che hanno determinate patologie presenti, non è che è vietata fare della semplice attività fisica, non parliamo di sport, parliamo di esercizio fisico, parliamo di movimento, senza nulla togliere lo sport, perché ci sono delle persone oltre a 65 anni che danno la birra ai ragazzi oggi, voglio dire, se in salute. Allora ecco che la prima forma di attività fisica è quella del camminare, non possiamo privarci del camminare, gli studi proprio ci sottolineano, si parla dei famosi 10.000 passi al giorno, che sono circa 6 km più o meno, per le persone oltre 70 anni dobbiamo parlare di 7.500 passi al giorno, ma voglio dire, già le porzioni di 10 minuti di camminata, poi mi fermo, riprendo altri 10 minuti, diventa positivi. Dobbiamo pensare che è attività fisica anche l'attività domestica, per cui l'attività di giardinaggio, pulire il pavimento, fare quelle che sono le attività quotidiane, anche questa è attività fisica. Prego. Vorrei spendere due parole su come abbiamo immaginato questo percorso che si sviluppa su due giornate. La prima appunto con un esperto, con i consigli, con le indicazioni preziose dell'esperto e poi il giorno successivo si passa alla pratica con le lezioni, che poi proporremo più volte nell'arco della giornata, in maniera tale anche che il pubblico possa magari nel primo caso semplicemente osservare e capire e poi nel corso della giornata essere accompagnato in questi esercizi con i quali è già in qualche maniera entrato in confidenza. Questo è un po' il percorso che abbiamo immaginato. Questo è il percorso, è un percorso facilmente fruibile, da svolgerci naturalmente in sicurezza e quando parliamo di svolgerci in sicurezza dobbiamo entrare in presente che dobbiamo evitare di avere ad esempio delle sedie girevoli, che dobbiamo evitare che ci siano dei tappeti o anche delle prese di corrente o qualcosa di questo genere o degli spigoli dei mobili, diciamo un metro quadro di spazio dove uno può sicuramente anche sul posto, sia da da posizione retta, che da posizione seduta, che da posizione sdraiata, svolgere alcuni esercizi per i maggiori distretti muscolari. Quando parliamo oggi uno dei problemi che è particolarmente presente anche sono il dolore della schiena, per cui si tratta di tonificare, potenziare tra virgolette, quelle che sono i muscoli stabilizzatori, per cui gli addominali ed i dorsali. Sappiamo che oggi uno dei problemi che in là con l'età c'è è quello della sarcopenia, che significa perdere la massa muscolare e dunque anche la forza muscolare. Allora, semplici bottigliette d'acqua di un litro o di mezzo litro ci portano a tonificare i nostri muscoli. L'altro problema è con l'età, già dopo i 50 passa anni, per le donne ad esempio dopo anche la menopausa, abbiamo il problema delle osteoporosi e per cui voglio dire che le ossa diventano spugnosi e fragili. L'attività fisica significa sicuramente e a prevenire e a contrastare, perché il concetto qual è? Vogliamo dare più anni alla vita o più vita agli anni. Ecco che l'attività fisica, come diceva quell'attore comico americano, tu diventerai vecchio quando le candeline costano più della torta. Questo è. Allora io ringrazio moltissimo il professor Claudio Bardini. Allora ricordiamo i prossimi appuntamenti. Mercoledì alla stessa ora, a 13.15, l'appuntamento con l'esperto. Noi invece ci rivediamo domani, sempre alle 13.15, per le lezioni pratiche, che poi vedremo più volte, come vi dicevo, nell'arco della giornata. Magari la prima si guarda e basta, dalla seconda in poi si comincia a fare esercizio. 13.15, se hanno appena pranzato, sarà un assaporare con gli occhi l'attività, per poi grazie alla vostra emittente riprenderla nell'orario adeguato e dunque svolgerla in presenza insieme all'esperto. Accompagnati appunto con l'esperto che sarà con voi, grazie alla televisione. Grazie ancora, buon lavoro naturalmente. Grazie anche a voi per averci seguito. Alla prossima, arrivederci. Alla prossima, arrivederci.